Alla presenza della regalità, di nuovo. Jennifer Connelly si sta aprendo sulla recente premiere reale del suo nuovo film, Top Gun, Maverick, e su come si è rivelata una sorta di esperienza a tutto tondo. Connelly e il resto del cast di Top Gun, Maverick hanno recentemente avuto la possibilità di sfregari i gomiti, per così dire, con il principe William e Kate Middleton alla premiere reale del film nel Regno Unito a Leicester Square la scorsa settimana. L'attrice ha parlato lunedì con Rachel Smith di E.T.A. una proiezione speciale di Maverick all'AMC Magic Johnson Theater di New York City, e ha spiegato perché l'incontro con il duca e la duchessa di Cambridge è stato particolarmente speciale. Come ha spiegato Connelly, 51 anni, questa non è stata la sua prima premiere reale. In effetti, ha calcato il tappeto a una premiere reale più di 35 anni fa, nel, 1986, sì per la premiere di Labyrinth e che era un film che ho fatto quando ero un adolescente, ha condiviso Connelly. E ho avuto modo di incontrare la madre di William, la principessa, Diana, Connelly ha detto che l'intero evento è stata un'esperienza molto speciale così come l'incontro con il principe William per la premiere di Maverick, e ha ammesso di aver decisamente pensato di aver incontrato la sua defunta madre decenni prima. Era, sai, è un'occasione molto speciale, ha condiviso Connelly. Pensi ai protocolli di cui ti chiedono di essere consapevole quando l'incontri e, naturalmente, sai, Kate e William sono stati entrambi così gentili e si sono allungati e ci hanno stretto la mano e sono semplicemente impeccabili. Connelly ha ammesso di essere stata così sopraffatta dal momento che in realtà non ha alcun ricordo di ciò di cui ho parlato. Connelly, insieme ai suoi colleghi membri del cast, sta promuovendo il tanto atteso sequel da un po' di tempo ormai, ma l'attrice ha spiegato che i ritardi si sono effettivamente rivelati una benedizione per il film e i fan del franchise. Alla fine, penso che abbia funzionato alla grande che uscirà ora, ha detto Connelly. So che è passato molto tempo ad aspettarlo, ma mi sento come se fossimo pronti per tornare nei cinema e per vivere un'esperienza collettiva divertente. E il film è molto celebrativo per me, quindi penso che sia perfetto per adesso. Top Gun, Maverick uscirà nei cinema il 27 maggio. Guarda il video qui sotto per ulteriori informazioni sul dramma d'azione ad alta quota. Facciamo un'esperienza. Grazie.